Ciao a tutti ragazzi, bentrovati qui dalle sale del Main Event European Poker Tour. Come vedete abbiamo cambiato location, ma l'entusiasmo sicuramente sarà lo stesso. Abbiamo già individuato ai tavoli parecchi volti noti. Abbiamo Vanessa Russo, Arnaud Matern, Roland DeWolf, Luca Pagano. Veramente un field impressionante. Anche la novità, Gianni Gironi dà questo evento targato EuroPK, quindi anche per lui fresca sponsorizzazione. Vedremo di immortalare i momenti più belli di questo EPT chiaramente su pokeritaliaweb.org. Questo è il video iniziale. Non credo che arriveremo a vedere lo shuffle at Fendil perché ancora, come vedete, parecchi giocatori sono in piedi per ancora trovare la loro postazione. Cercheremo comunque di fare un ulteriore video nel momento in cui verrà dato lo shuffle a Fendil. Cercheremo di immortalare quindi il via. Seguitici numerosi, www.pokeritaliaweb.org. Ragazzi, un saluto a tutti e buon inizio di poker con noi. Ciao a tutti. Grazie. Grazie a tutti.